E' stato presentato nella libreria Dovilio il romanzo dal titolo Il giudice delle donne, l'ultima opera della giornalista e scrittrice Maria Rosa Cutrufelli. Alla presentazione ha partecipato la stessa autrice, che è stata accolta da un numeroso e attento pubblico. Al fianco della Cutrufelli la scrittrice e poetessa calatina Maria Tanasio. Il giudice delle donne, il suo ultimo libro, come nasce? Nasce per la curiosità per questa storia, poco conosciuta, in realtà di grande importanza, ma proprio ha un grande valore simbolico per l'Italia, per le donne italiane, che quando ho scoperto che siamo state le prime a raggiungere, anche se solo per poco tempo, il diritto di voto, solo per poco meno di un anno, ho pensato che era un'avventura che mi sembrava quasi impossibile che fosse trascurata, ignorata, perché è stata una grande avventura, un'epopea femminile che mi ha, come dire, mi ha emozionato, mi ha incuriosito, mi ha trascinato a scrivere questo libro. Il romanzo parte da un avvenimento storico, siamo nel 1906. Sì, siamo nel 1906 e Maria Montessori lancia un appello alle donne italiane perché si scrivano le liste elettorali come se fossero uomini, era una provocazione ovviamente, e in tutta Italia lo fanno. Nascono gruppi, molte maestre, dalla Sicilia fino alla Liguria, alla Lombardia, in Sardegna, e però nessuno di questi gruppi riesce a vincere la battaglia, a ottenere l'iscrizione alle liste elettorali, tranne dieci maestre della provincia di Ancona. Loro ci riescono e per meno, per circa un anno, finché la Cassazione ordina di cancellarle dalle liste elettorali, loro sono elettrici. Prime, appunto, non solo in Europa, ma praticamente nel mondo, perché allora avevano il diritto di voto le donne solo in Australia e in Nuova Zelanda. Il romanzo si snoda attorno alla figura di tre personaggi. Sì, una giovane supplente, una bambina e un giornalista. La giovane supplente, come dire, non può partecipare a questa battaglia, ma la può perché non ha l'età, perché per farla bisognava essere maggiorenni. E quindi, diciamo, fa da supporto, da aiuto a quelle che invece la fanno in prima persona. E nel dare loro quest'aiuto capisce che cosa vuole nella vita, capisce che cosa vuole fare. E quindi è la storia di una crescita, anche di una crescita femminile. E poi c'è il giudice, quindi descriviamo un po' la figura di questo giudice. Il giudice, che ovviamente è realmente esistito, è un personaggio storico molto famoso. Si chiamava Lodovico Mortara, era un ebreo, figlio del rabbino di Mantova, e fu l'unico in tutta Italia a dare ragione alle donne e a dire che sì, avevano il diritto di iscriversi alle liste elettorali. Poi anche lui fu smentito dai suoi colleghi e la Corte di Cassazione appunto lo bacchettò sulle dita. Personaggi reali che si incrociano con personaggi creati dalla fantasia. Sì, certo, è un romanzo. Quindi il compito del romanzo è raccontare la vita. E quando la vita incrocia la storia, però comunque il romanzo deve raccontare i sentimenti, le emozioni. Le emozioni, come dire, che tutti noi viviamo la storia. Alcuni magari cadono a capofitto nella grande storia, altri invece in una storia più quotidiana. Però tutti viviamo la storia. E il romanzo racconta proprio questo incontro fra le vite singole, individuali, e i fatti collettivi che sono poi la storia. Possiamo dire che è un libro che ricorda l'importanza del voto in un momento in cui invece questo viene a meno. Io ci tengo sempre a dire, anzi a ricordare, le parole di alcuni nostri giuristi, grandi giuristi, che sottolineano come il voto non sia semplicemente un diritto, semplicemente fra virgolette. E' un potere, è un potere di negoziazione. E quindi io starei molto prima di rinunciare a questo, che è uno dei pochi poteri che il cittadino può esercitare. Ci penserei mille volte. Grazie.